Immaginate di dover rifare casa e di non volervi affidare al solito architetto a quello che vi ha fatto l'ultima volta ai lavori e che non vi ha soddisfatto completamente, di voler magari accedere a gusti e trend diversi, magari architetti svedesi piuttosto che giapponesi, ma di non sapere come fare. Oggi c'è un'opportunità che si chiama CoContest, ormai in realtà da qualche anno, che vi permette di lanciare dei progetti e di ricevere dei feedback, delle risposte da architetti di tutto il mondo e poter scegliere poi quale effettivamente realizzare per il vostro spazio. Siamo qua con Alessandro Rossi, il fondatore. Ciao Alessandro. Ciao. Ci spiega un po' la storia di CoContest e come siete nati. Raccontaci però Alessandro un po' prima come sei nato tu anche come imprenditore, e come è nato questo progetto. Allora, il progetto di CoContest è nato dall'idea del mio socio Filippo Schiaomi Pepe, che è un architetto e che negli anni successivi alla laurea ha potuto, diciamo, verificare con mano quella che è sperimentare, quella che è la situazione di lavoro e giovani architetti. Spesso si trovano a lavorare per anni in studi, facendo tirocini, spesso non pagati o comunque retribuiti a rimborso spese, senza avere mai l'occasione di crearsi un vero e proprio portfolio clienti, delle relazioni per poter iniziare a coltivare una professione in maniera autonoma. E quindi l'idea di Filippo è stata quella di applicare un modello che allora, si parla di 3-4 anni fa ormai, iniziava a prendere molto piede, che è il modello di crowdsourcing, in particolare nel mercato della grafica web, con 99design ad esempio, Crowdspring e varie piattaforme di questo genere, da applicarlo all'architettura, alla progettazione architettonica. Così è nato CoContest, successivamente poi, diciamo, un mese dopo praticamente sono arrivato anche io, come terzo socio, insieme a Filippo e Federico, suo fratello, che hanno fondato la società. In realtà io mi ero appena laureato in Economia alla Lewis, stavo finendo un master sempre lì alla Lewis. Io, la mia storia personale, diciamo, è quella di un ragazzo che sin da giovane voleva fare impresa, voleva fare imprenditore, quindi non mi ero mai visto come dipendente o dirigente, insomma una carriera dirigenziale in aziende private o grandi aziende. Quindi appena Federico mi ha proposto quest'idea, che tra l'altro io trovavo geniale, cioè la trovo tuttora geniale da un punto di vista di cambiamento del mercato, che quello che mi è sempre piaciuto è poter fare un'esperienza imprenditoriale che non fosse tradizionale, che fosse qualcosa di particolarmente ambizioso in termini di rivoluzione del mercato dove andava ad operare. Sicuramente CoContest era un'occasione rinunciabile da questo punto di vista. Certo, anche perché voi effettivamente avete avuto qualche problema in Italia, perché non certificando l'architetto che poi effettivamente dà il progetto, avete avuto qualche ostruzione, diciamo, da parte del sistema più tradizionale che è in Italia. Esattamente, allora l'idea di CoContest è innanzitutto applicata a tutta l'architettura, quindi si va dall'arredo di un salone alla costruzione ex novo di una villa, ad esempio, no? Quindi ovviamente il livello di complessità e di skill necessarie per poter realizzare il progetto sono molto diversi, diciamo, all'interno di questo macro insieme. Per questo noi non abbiamo mai voluto, non abbiamo mai pensato sin dall'inizio di limitare la partecipazione, lato provider, soltanto a determinate figure. Quindi, ad esempio, noi abbiamo tanti interior designer all'interno dei 25.000 architetti interior designer che da 90 paesi aderiscono al nostro sito, molti dei quali probabilmente non sono architetti, sono ad esempio geometri, ma, ripeto, si tratta di CoContest di arredo. Diversamente abbiamo molti ingegneri e moltissimi, ovviamente la stragrande maggioranza della community poi è fatta effettivamente da architetti per tutti quelli che sono i lavori strutturali. C'è da dire un altro fatto. In Italia noi abbiamo subito un'interrogazione parlamentare, abbiamo subito soprattutto una denuncia da parte dell'albo degli architetti all'autority della concorrenza, l'antitrust italiano, proprio alla luce del fatto che, come accennavi tu, noi non certifichiamo i nostri architetti, quindi non verifichiamo l'effettiva iscrizione degli architetti all'albo. Questo avviene per una serie di motivi. Primo motivo, perché non in tutto il mondo esistono, grazie a Dio, lasciatemi sottolineare, degli albi professionali e non tutti seguono la regolamentazione che c'è in Italia, ad esempio, in cui occorre fare l'esame di Stato, appunto iscriversi all'albo, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe impossibile per noi determinare una certificazione standard che includa l'architetto svedese, italiano, cinese, giapponese e armeno all'interno di uno stesso quadro normativo. Per questo, appunto, scegliamo di non farlo. Detto ciò, ovviamente, è un esempio che io faccio spesso, mi piace fare anche adesso con voi, l'ho fatto sia a Todi, quando ci siamo conosciuti, sia adesso sono stato a Bologna a una conferenza sullo Smart City, tra l'altro conferenza piena di politici, tra virgolette, che mi ha particolarmente colpito sul tema. E l'esempio che io faccio sempre è quello nostro di Uber, che è un esempio, tra l'altro, molto giornalistico, che a quanto pare è piaciuto molto durante il periodo delle denunce che abbiamo subito. Secondo me c'è una distinzione fondamentale nei grandi siti di crowdsourcing, che oggi vengono genericamente e spesso erroneamente inseriti nella sharing economy, a mio avviso, tra il crowdsourcing ad alto livello di specializzazione e il crowdsourcing a basso livello di specializzazione. Cocontes Uber. Uber è un sito a basso livello di specializzazione, dove tutti noi sappiamo guidare una macchina. Chi meglio, chi meno bene, però tutti noi sappiamo guidare una macchina. Siamo in grado di portare un passeggero da un punto A a un punto B. Quindi sostanzialmente la rivoluzione di Uber è quella di permettere a tutti, a tutti i cittadini, quindi indistintamente alla massa, diciamo, di sostituirsi a quello che finora è stata una professione regolata, quindi a una professione che era esercitata dai professionisti del settore, in questo caso dai tassisti. Quello che fa Cocontest è, se volete, applicare lo stesso modello, quello del crowdsourcing, in questo caso concorsuale, ma a un lavoro ad alto livello di specializzazione. E questo determina un cambiamento enorme, perché nel caso di Cocontest la massa, diciamo io, io singolo cittadino, non mi possa andare a sostituire all'architetto, e probabilmente neanche all'interior designer, perché ci vogliono delle skill, delle competenze, innanzitutto tecniche teoriche, ovviamente, ma anche di utilizzo di determinati software, ad esempio per la realizzazione dei render 3D, che sono assolutamente fuori dalla portata di chi non è un tecnico professionale del settore. E dunque sostanzialmente è un nuovo modo di fare interagire i professionisti del settore, ma in nessun modo Cocontest permette, diciamo, a terzi, diciamo, a persone non professioniste di sostituirsi appunto agli architetti o agli ingegneri nella realizzazione dei progetti. E credo che questo sia un aspetto chiave del nostro servizio, rispetto, che forse è meno rivoluzionario, se vuoi, no? Di un servizio come Uber, in quanto cambia in maniera meno radicale il prodotto, ma che ha meno bisogno, tra virgolette, di tutele in quel senso, in quanto poi il progetto per una grande villa non viene approcciato da chi non ha le caratteristiche tecniche per poterlo poi realizzare o fare. Tant'è che è facile vedere su Cocontest i grandi progetti che tendono a prendere molti meno progetti dei piccoli progetti. Questo perché un piccolo progetto su un salone lo può fare tutta la nostra community e quindi ha molti più partecipanti, mentre un segmento più ristretto della nostra community è in grado magari di progettare una villa ex novo e dunque poi i progetti che si vanno a ottenere sono di meno. Nessuno, e in questo aiuta anche il concorso, che è stato, insomma, siamo stati aditati a mercanti di schiavi per aver fatto questo concorso, in quanto non tutti vincono, ovviamente, come in tutti i concorsi di questo mondo, però è un sistema estremamente meritorio che non solo sviluppa appunto un mercato di selezione professionista meritocratico, quindi non basato, come dicevi tu prima, sulla relazione, ma basato sulla qualità progettuale, quindi io scelgo il professionista che fa il progetto che è più adatto per le mie esigenze e per i miei gusti, non l'amico di mia madre o di mia sorella. Secondo poi, determina una autoselezione dei professionisti, nessun professionista si mette a fare, a dedicare 10, 20, x ore, quelle che siano, di lavoro per un progetto che sa di non essere in grado di realizzare o su cui sa di non avere probabilità di vittoria. Per questo dico, spesso mi dico, ma chi mi garantisce che l'amatore non viene a fare contest su co-contest? Lo garantisce il fatto che nel peggiore dei casi partecipa a un contest, prende due di voto, arriva ultimo e capisce che ha un modi migliori per impiegare il proprio tempo. Chiaro. Effettivamente poi è l'utente stesso che seleziona il progetto, se arrivo io a fare un progetto di una casa, non credo che il mio disegno su paint possa andare bene. Voi però avete appunto, nonostante questo, avuto una crescita molto importante e siete passati da diversi fasi di finanziamento, diversi acceleratori. Avete una storia molto particolare, perché dall'Ella Baroma vi siete spostati in Cile e poi recentemente avete avuto un finanziamento da 500 Startups, che è uno dei più grandi incubatori al mondo. Sì, devo dire... Eccoci un po' questa esperienza. Devo dire che abbiamo, da un punto di vista di acceleratori d'impresa, un'esperienza molto cosmopolita e completa, diciamo, nel senso che abbiamo fatto tre acceleratori, che è una cosa, tra l'altro, anche un po' non usuale, diciamo, per una startup. Di solito si fa un acceleratore nella speranza che ti acceleri, diciamo. Invece poi è sempre difficile che gli acceleratori ti accelerino veramente, soprattutto dove non c'è un ecosistema. Nel senso che l'acceleratore d'impresa ti accelera nel momento in cui è inserito in un ecosistema imprenditoriale, diciamo. Nel nostro caso un acceleratore di startup accelera una startup se inserito in un ecosistema di startup innovative. Ahimè, purtroppo, in Italia, ma così come anche in Cile, adesso senza essere troppo provinciali, l'ecosistema di fatto non c'è. Io adesso posso dirti meno dell'esperienza cilena, perché durante quei sei mesi sono rimasti in Italia con i nostri sviluppatori e i miei due soci sono andati poi in Cile, in particolare Filippo, e ci è rimasto tutti e sei mesi del programma di accelerazione. Quindi è più adatto lui, diciamo, per raccontarvi le peculiarità di quell'ecosistema. Quello che, diciamo, è utile secondo me fare su questa domanda è cercare di farvi capire le differenze non tanto tra l'acceleratore Lewis & Labs e l'acceleratore 500 Startups, che ovviamente hanno anche profili, disponibilità economiche, almeno al momento, diverse, no? E anche anzianità diverse. Ovviamente uno, 500 Startups, è molto meno recente dell'altro. Ma in quanto nell'ecosistema dove sono inseriti? Lo stesso acceleratore, prendiamo il caso di Lewis & Labs, inserito in un ecosistema come quello della Silicon Valley, sicuramente darebbe un boost, un'accelerazione maggiore alle proprie Startup. E questo perché in Italia, purtroppo, appunto, diciamo, non c'è un ecosistema. E in particolare manca tutta una cultura dell'investimento in Startup, che ovviamente è una moda, tra virgolette, se volete, molto recente, che è scoppiata in Italia ormai da pochi anni, mentre ovviamente è molto, molto più radicata proprio nelle decadi precedenti negli Stati Uniti, in cui si è sviluppato e questa secondo me è la grande differenza, se volete, la prima macro differenza, un sistema abbastanza standard di finanziamento alle aziende innovative. Faccio esempio di 500 Startups. A 500, il primo giorno, tutti i primi talk sostanzialmente che tu fai sono sulle modalità di finanziamento, quindi su come tu devi andare a chiedere i soldi e loro ti suggeriscono subito un contratto che si chiama KISS, Keep It Super Simple, che è un, l'acronimo di Keep It Super Simple, che è un, appunto, un contratto di security, di convertible security, quindi non è una vera e propria notes, non è un vera e propria tra virgolette prestito obbligazionario convertibile, ma è proprio quella che loro chiamano appunto una security, cioè una via di mezzo tra il prestito convertibile e l'equity diretta, che sostanzialmente non dà luogo alla restituzione nel caso di mancata conversione, ma semplicemente all'obbligo di conversione dopo un tot, dopo una finestra di tempo, la maturity, diciamo, della security. E questo è molto buono, non soltanto perché standardizza il mercato, quando io sono andato a chiedere soldi da Angel ai Venture Capital, tutti sapevano che qual era il contratto KISS, nessuno, questo vi giuro, nessuno, ha provato a trattare un solo term, perché i term and condition delle start-up sono standard, sono già previsti all'interno del contratto di KISS, il mercato sa che esistono 10-15 acceleratori di impresa che seguono quegli standard, nel momento in cui tu vieni da quell'acceleratore e porti il KISS e il contratto di 500 prefatto, è solo una questione di inserire due numerini, la cap table, possiamo dire, se vuoi dare una liquidation preference che può essere due o tre per, ma sono veramente pochissimi le variabili, due o tre variabili economiche, puramente economiche che si vanno a toccare, non c'è nessuna contrattazione sulle condizioni dell'investimento, ti dico invece che io in Italia per quei pochi soldi che ho preso io ho raccolto 130 mila euro in più di due anni in Italia, quindi soldi con cui, lo capite bene anche voi, non si fanno e questo purtroppo bisogna dare la cultura di questo, non si fanno in start-up, non si aiutano a start-up facendo round da 50-100 mila euro, anzi, la si fa invecchiare, quindi la si congela, tra virgolette, in una situazione di early stage, che è la cosa peggiore per una start-up, no? Grow fast, fail fast, è il motto, se invece tu mi congeli dannomi transita 30-40-50 mila euro ogni sei mesi, è la peggior cosa che può succedere a una start-up, perché noi siamo congelati in un progetto che è destinato a invecchiare senza scalare e quindi a diventare col passare del tempo sempre meno appealable, sempre meno interessante per altri potenziali investitori e per avere questi 50 mila euro noi parlavamo ore, 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 ore di term and condition, scrivevamo term sheet di pagine, pagine, pagine su come modificare di un giorno, due giorni varie clausole a favore dei nostri investitori o a favore dei founder e questo è purtroppo un qualcosa che rende impossibile una crescita organica del mercato, occorre strutturarlo creando una cultura dell'investimento ma ancora prima di questo ancora più se vogliamo praticamente di questo cercando di capire quali sono le prassi di investimento in termini di contratti di investimento farle proprie perché non si può pensare di avere per 150 o 100 mila euro il 45% di una società perché questo è quello di cui si parla con gli angel italiani anche con gli angel strutturati parlo parlo dei grandi gruppi di angel italiani sono tanti se vai a guardare i loro term and condition che ti presentano sono term and condition dove tu poi non prendi soldi da nessun'altra parte del mondo questo è è oggettivamente così tant'è che noi ti do il nostro personale feedback noi stiamo trovando grandi difficoltà a prendere soldi negli Stati Uniti soldi veri quindi un conto è prendere le centinaia di migliaia di euro e un conto è prendere i milioni di euro per prendere i milioni di euro devi andare dai WC nessun WC che si rispetti tende a investire soldi in start up che hanno con investitori early stage term and condition così vessatori come quelli che di norma si fanno in Italia in tutti gli acceleratori con tutti gli angel investor e insomma in tutto quello che è l'ecosistema italiano quindi credo che questo tra i mille problemi che abbiamo sia oggi il grande problema di fare start up in Italia che adesso sto vedendo molti raccolgono soldi ma mi chiedo sempre ma a che percentuali l'hai raccolti qui in media la valutazione early stage è tra i 600 mila e un milione e mezzo due vai a raccogliere 800 mila euro 700 mila euro a 2 milioni di valutazione premone e capisci che tu hai già dato se non i 40 al 35% della tua società e guarda sarebbe il meno vai a vedere che condizioni di investimento hai firmato persone nel board diritti di veto su qualsiasi operazione che superi 10 mila euro in acquisto in uscita su qualunque operazione immobiliare su qualunque operazione che possa essere anche l'assunzione di un dipendente immagini tu qualunque dipendente ne parlavamo ti ricordi a Todi costa sui 30 mila RAL adesso occhio e croce uno sviluppatore diciamo junior ti costa sui 30 mila RAL in Italia anche di più immagini di firmare term and condition in cui tu ogni volta che devi assumere uno sviluppatore devi fare un'assemblea chiamare i tuoi investitori e fare un CDA per votare con l'80 passa per cento x percentuali favorevoli l'assunzione di un nuovo sviluppatore e capisci per quale motivo la start up che deve essere lean per definizione quindi dinamica veloce non può assolutamente esserlo in una condizione di questo genere purtroppo c'è tantissimo da fare per creare un ecosistema qui e ti dico la verità adesso che sono tornato dagli Stati Uniti non tanto che sono tornato dagli Stati Uniti ma quanto per aver frequentato un po' gli eventi che ci stanno adesso qui veniamo invitati sono molto 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 poco ottimista perché vedo che si parla di tutto tranne che dell'unico tema cioè quello di fare delle billion company qui perché purtroppo poi lo diciamo anche l'altra volta noi è la billion company che fa l'ecosistema tu crei 5-6 grandi aziende che hanno miliardi che investono nella ricerca che assumono le persone che fanno l'exit l'Italia non ha un mercato dell'exit attirano soldi dall'estero attirano persone professionisti e competenze dall'estero ripeto fanno un mercato dell'exit quindi creano anche l'opportunità per investire perché io capisco gli investitori capisco che in Italia non esiste un mercato dell'exit perché devo investire su una società soprattutto con un modello particolarmente innovativo infatti se tu ti vai a guardare il track record degli investimenti in Italia si investe quasi esclusivamente in società che sono con modelli business di anni e-commerce faccio un negozio vendo un prodotto poi adesso non critico assolutamente gli e-commerce ovviamente non sono questi diciamo i modelli di business più dinamici più finanziati in questo momento in Silicon Valley non lo sono perché non sono questi i modelli che possono scalare diventare un incumbent e quindi poi diventare una billion company in Italia non c'è questo interesse c'è l'interesse del fondo e da un punto di vista privatistico del fondo dell'investitore io lo capisco nel senso non c'è un mercato dell'exit non ci sono prospettive per le mega aziende la probabilità che un'impresa italiana diventi un incumbent globale è molto bassa tendo a investire su mercati nazionali su player che possono fare magari l'e-commerce nel mercato italiano e poi vendere a poche decine di milioni di euro però con più probabilità di essere poi profit e questo però ci impedirà questa logica ci impedirà strutturalmente di avere un ecosistema vincente perché noi non creeremo mai una, due, tre quattro billion company che è il minimo base che serve per fare un ecosistema guarda quello mi sembra voi venivate dalla Germania sì noi viviamo a Berlino guarda l'ecosistema di Berlino io sono stato più volte tra l'altro anche per vari eventi legati al mondo delle start-up il loro ecosistema è fatto non da 150 billion company come in Silicon Valley da poche billion company più oddio aiutami le rocket le rocket internet bravissime sono poche billion company e rocket internet ma non è un mega ecosistema però è un ecosistema che funziona che è dinamico perché ha delle billion company e questo gli permette di creare tutte quelle sinergie quelle famose esternalità positive che esistono in Silicon Valley e che purtroppo finché qualcuno lo Stato la politica o gli stessi proprietari dei fondi chi gestisce i grandi fondi di venture in Italia non capisce che l'ottica perché nel futuro sia di successo i loro investimenti sia quello oggi di fare investimenti più rischi ovviamente ma che abbiano l'obiettivo di consolidare un ecosistema qui finché non ci sarà diciamo questo tipo di mentalità la vedo dura l'altro giorno stavo a Smart City e si parlava di sharing economy e te l'avevo accennata e si metteva insieme come assegnare le case sequestrate ai mafiosi con Uber per loro tutto quello era sharing economy capisci bene che così c'è troppa confusione sì spesso effettivamente da una parte si assiste alla voglia più di coprirsi dai rischi che di prenderli probabilmente da parte degli imprenditori e poi sostanzialmente come dici tu spesso manca proprio la prospettiva di credere che un domani ci sia un ecosistema tale da fare dell'exit importante manca proprio questo la prospettiva di credere ma anche la voglia la lungimiranza di investire su qualcosa a dieci anni nel senso di dire ok io oggi sto investendo per cercare di creare un ecosistema che fra dieci anni mi darà dei frutti creerà delle sinergie positive e ovviamente questo è un intento imprenditoriale anche politico da parte dei fondi stessi non solo della politica che manca completamente quindi ovviamente le probabilità con tutti gli svantaggi che abbiamo e mancando la volontà ultima di diventano parente zero proprio in Italia poi alla fine non è un problema ma sono sempre un centinaio di problemi che vanno risolti uno a uno e poi se ne creano altri però vabbè insomma pian pianino anche il mondo start up sta acquisendo sempre più più importanza quindi speriamo che come ogni cosa poi nel tempo abbia il suo giusto processo di crescita voi mi dicevi che proprio per questo siete partiti fin da subito con un'ottica più internazionale avete scelto fin da subito di fare il sito prima in inglese che in italiano e vi siete rivolti a un mercato globale anche per la possibilità di farlo sostanzialmente come tipologia di servizio dal punto di vista del marketing e dell'acquisizione anche lato provider immagino inizialmente come vi siete mossi per affrontare subito un mercato globale allora sì penso che questo sia un aspetto molto importante ne abbiamo già parlato riguardo l'internazionalità della piattaforma adesso io parlo ovviamente solo di innovazione web ok quindi poi se uno fa uno spin off di biotecnologie dall'università stiamo parlando di tutt'altro mondo e non credo che anche in quel mondo l'inglese ormai non sia assolutamente centrale per la riuscita del progetto detto questo per un sito web quindi una start up che ha l'ambizione di porsi come incumbent all'interno di un mercato e di rivoluzionarlo a livello globale è assolutamente essenziale la piattaforma parte in lingua inglese e questo sarò sinteticissimo ma deciso diciamo su questo punto è fondamentale perché sento spesso dire qui in Italia ma io adesso faccio il sito in Italia scalo in Italia e poi vado all'estero ma non è vero questo perché se io scalo in Italia consideriamo tutta l'improbabilità la fatica il lavoro i soldi gli investimenti che serve fare per realizzare questo tutto questo che abbiamo appena detto io poi non lo riuso all'estero pensa solo al SEO tutti i contenuti che io faccio mettendo un blog all'interno del mio sito internet per creare contenuti curando spasmodicamente la mia il mio SEO in modo tale da essere da ottimizzarlo essere in prima pagina quando c'è la ricerca su determinate keywords tutto questo in italiano poi nel momento in cui non ti dico mi sposto in America ma mi sposto in Spagna e il mio SEO è zero perché ovviamente non ho nessun contenuto in spagnolo non ho nessuna keywords in lingua spagnola in cui appaio neanche in quindicesima pagina da nessuna parte e quindi tutto il lavoro che ho fatto è un lavoro che non può essere in nessun modo portato poi utile per la scalata a livello internazionale per questo dico che su me è fondamentale addirittura ho fatto la provocazione un'altra volta ti ricordi che io fossi in un venture non darei mai soldi a una persona che mi presenta un sito esclusivamente in italiano il sito purtroppo qualunque esso sia se vuoi avere un minimo di ambizione internazionale devi avere un sito in lingua inglese anzi devi aiutare per quanto anche solo in parte i tuoi utenti a utilizzare a fruire dei servizi della tua piattaforma in lingua inglese noi ad esempio siamo partiti col sito solo in lingua inglese e soltanto praticamente un anno dopo abbiamo inserito il sito in italiano la versione italiana del sito e questo è importantissimo tornando alla domanda del marketing guarda secondo me per l'esperienza che ho io poi il marketing lo fa il mio socio Federico quindi probabilmente era lui più adatto a rispondere a questa domanda non ci sono grandissime differenze ovviamente ci sono enormi differenze in termini di costi di acquisizione probabilmente anche di dove andare ad acquisire lato clienti quindi quando parliamo di chi deve pagare il tuo servizio nel nostro caso è un servizio per internet costoso ovviamente molto economico rispetto al servizio offline ma molto costoso rispetto a quello che è il paradigma di internet considera che un mio cont lanciare un cont su cont in media costa sugli 800 euro che è insomma una cifra importante da spendere su internet non molte persone ancora in Italia hanno il trust in questo tipo di economia per spendere 800 euro 1000 euro su un sito web quindi lato clienti molto complesso e lì bisogna faccio l'esempio molto breve di quello che è successo in Italia e negli Stati Uniti noi avevamo una pubblicità che in Italia faceva buone performance e avevamo tutto un funnel se vuoi non solo la pubblicità ma tutto un funnel di acquisizioni che in Italia non dico che insomma stava rivoluzionando il mondo ma stava funzionando siamo arrivati negli Stati Uniti e ci siamo accorti che l'intero funnel a partire dalla comunicazione ad esempio dell'home page e dei contenuti non funzionava perché lì bisognava avere un approccio di maggiore gamification ad esempio noi avevamo una pagina prezzi faccio un esempio pratico avevamo una pagina prezzi statica che era difficilmente fruibile per gli user americani che erano abituati invece a un prodotto più dinamico più gamificato se vuoi dovevi cliccare per avere l'informazione successiva mentre da noi andavi a leggerti tutto da una tabella statica e questo è uno dei mille esempi che loro ti facevano di come in realtà poi al di là di come fai la pubblicità proprio come comunichi e quindi tutto il panel di acquisizione è molto diverso per quanto riguarda invece l'acquisizione dei provider del servizio quindi dei professionisti che offrono il servizio ecco già lì è molto più semplice secondo me perché noi per esempio li prendiamo su Facebook la stragrande maggioranza ti dicevo prima avevamo un costo per click nei periodi in cui facciamo più pubblicità in Italia dove ovviamente siamo più ottimizzati ancora di 0,7 di 70 centesimi circa hai scritto quindi bassissimo e pochi euro per un attivo e questo perché? perché ovviamente nei grandi marketplace quindi in queste piattaforme two-sided market dove da una parte c'è chi offre il provider del servizio e da una parte c'è il cliente che chiede il servizio ovviamente chi offre i servizi usa la piattaforma per lavoro e quindi è molto più facile acquisirli è molto più facile convincerli è gratuito per loro iscriversi alla piattaforma eccetera eccetera e quindi secondo me Facebook diventa un canale estremamente efficiente perché Facebook ti permette di targetizzare abbastanza bene su queste macro categorie mentre è difficilissimo mi faccio sempre esempio pratico su Facebook andare a trovare chi è nel momento nella necessità di fare una ristrutturazione vai su Facebook a capire se io mi sto per ristrutturare caso ho appena comprato caso è veramente difficile mentre per esempio dai miei gusti da chi seguo dalle pagine è molto facile capire se ad esempio sono un professionista dell'architettura se seguo determinate pagine ad esempio pagine come lavori pubblici in Italia per dire o edilportale che sono tutte blog tecnici per l'architettura tendenzialmente sono seguiti da architetti e ingegneri quindi è molto più facile andare a colpire il tuo target lato offerta del servizio lato domanda del servizio ti dico non rispondo innanzitutto perché non faccio il marketing ma perché sinceramente siamo ancora in quella fase di ricerca per capire quali siano i canali migliori dove fare marketing anche perché ripeto il nostro è un marketing particolarmente complesso nel senso tutti possono comprare non so una scarpe online o un vestito o una bottiglia di vino o mi viene in mente adesso quando eramo a Todi con le ragazze le cicogne è facile a Facebook capire se hai un figlio di una certa età o meno che potrebbe aver bisogno e invece capire se devi andare a ristrutturare casa piuttosto che hai cambiato ufficio e quindi il tuo nuovo ufficio lo devi ristrutturare è veramente difficile comprenderlo da Facebook quindi è uno strumento e quando il need è molto specifico diventa meno efficiente rispetto a quando è più facile targetizzare i clienti quindi lato designer sicuramente o acquisizione insomma dei provider del servizio Facebook secondo me è sempre migliore a livello internazionale anche quindi senza grosse distinzioni sul prendere l'architetto in Alaska piuttosto che la distinzione lì è il costo o le percentuali di conversione che vai a fare nel nostro caso ad esempio ovviamente convertiamo di più nei paesi a reddito più basso per evidenti motivi dove il premio del nostro contest risulta molto più attrattivo ovviamente ci sono adesso è uscito un bellissimo studio tra l'altro della comunità europea anzi di un'associazione che lavora a Bruxelles per la comunità europea su CoContest sul mondo del crowdsourcing visto dai dati di CoContest e appunto loro facevano la distinzione tra il serbio e l'italiano dove l'Italia è considerata un paese a medio reddito in realtà neanche a reddito elevato dove in Italia erano buoni i prezzi per i designer quindi il designer poteva diciamo vincendo due o tre contest fare il mese di lavoro in Serbia vincendo un singolo contest si tendeva a guagnare più di un mese di lavoro certo quindi ovviamente l'attrattività per quei designer è più alta però nelle modalità di esercizio di pubblicità via Facebook mi sento nonostante non è il mio di dire che non ci sono grandi distinzioni a livello internazionale ed è un canale molto efficiente per acquisire i professionisti diciamo ok grazie mille Alessandro grazie a te mille consigli utilissimi ti chiedo grazie a te quando volete fare qualunque cosa sul mondo delle start up noi siamo sempre molto attivi per cercare di collaborare alla crescita di questo ecosistema bisogna fare così del resto si crea ecosistema anche portando valore insieme per questo apprezzo molto la vostra iniziativa mi sembravate in questo senso nel senso di poter portare formazione e cultura delle start up al di là dell'improvvisazione che è un po' imperversa nel nostro ecosistema oggi speriamo nel nostro piccolo di fare di fare un buon lavoro quello che ti chiedo come ultima cosa è di dare gli ultimi tre consigli a quelli che tu hai appreso insomma secondo la tua esperienza a chi si approccia a questo mondo per la prima volta quindi ai nostri utenti e che secondo te deve assolutamente avere in testa quando pensa di fare una start up allora guarda purtroppo devo dire la verità il primo è assolutamente non attenti non non fare start up in Italia probabilmente bisognerebbe dire quello però io non arrivo a questo e credo che ci sia per quanto molto scarse le probabilità di creare un ecosistema e che queste siano ovviamente sempre più probabili più siamo a provarci e con convinzione quindi non dico di non fare start up in Italia anzi dico fate le start up in Italia però non costituite un'SRL italiana questo no non voletevi del male insomma va bene fare start up qui va bene essere qui però ormai viviamo nella comunità europea andare a costituire la società di diritto tedesco o piuttosto un LTD a Londra non costa niente si fa in pochi non dico minuti ma quasi fate questo ecco questo primo consiglio assolutamente perché purtroppo il mercato dei finanziamenti è la start up fare start up vuol dire non fare amicizia come si dice nei convegni in Italia questo lo devo dire ma prendere finanziamenti per prendere finanziamenti si concorre in un mercato globale dei finanziamenti e purtroppo è inutile partecipare alla corsa delle moto con la bicicletta è ovvio che chi deve andare a darti soldi e sempre di più nei round quando diventano grandi round va a guardare che veicolo societario hai è chiaro che un veicolo societario italiano dove all'estero c'è il mito che ci vogliono 30 anni per fare un processo e non c'è nessuna sicurezza da questo punto di vista spaventa in maniera forte gli investitori quindi aiutatevi uno creando una società di diritto straniero paesi anglosassoni società di common law dove tutti poi non 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 vi fanno una questione di carattere societario sicuramente questo secondo punto state molto attenti ai term and condition io capisco e sono stato il primo a spingere i miei soci a non capire i miei soci quando volevano contrattare in maniera forte i term and condition soldi sono soldi ora ne abbiamo bisogno eccetera e sono ragionamenti giusti e legittimi che io stesso ho fatto però diciamo con l'esperienza che ho accumulato non dico di non firmare perché ovviamente poi uno deve anche fare però di stare attento a determinati term and condition perché poi c'è sempre il mito che quando si arriva si ritrattano ma a ritrattare c'è sempre tempo e in realtà poi diventa una grande friction per andare a prendere i soldi tento di dare tutti i suggerimenti legati all'andare a prendere o quasi tutti adesso magari il terzo no legati ad andare a prendere i soldi perché purtroppo ribadisco è l'aspetto essenziale per una start up cioè se riesci a raggiungere un finanziamento di serie 6 hai la vera possibilità di provare poi conta solo l'execution come si dice sempre in questi momenti però hai la possibilità di provare se non prendi un serie 6 non hai la possibilità di provare stai giocando infatti quello che mi preoccupa è che è un boom adesso di start up in Italia lo dicevamo anche l'altro giorno purtroppo i serie A sono molto pochi il che vuol dire che molte persone purtroppo perderanno due tre anni della propria vita dietro una start up senza mai avere la possibilità di farla veramente quindi io ma per carità è giusto che ci siano i fallimenti anzi è sano è meno sano che tante persone vengano tra virgolette illuse da questo sistema di poter fare qualcosa e poi magari investono tre o quattro anni della propria vita raccolgono in quattro anni 150 mila euro allora lì non hai mai avuto una sola chance di poterlo fare e questo lo dispiace terzo consiglio riguarda secondo me quello che non abbiamo parlato adesso in questa intervista dato il fatto che ho una sintassi come vedete molto prolissa ma il secondo grande problema del nostro ecosistema sono gli sviluppatori informatici non me ne vogliano già non sono amatissimo da loro adesso il nostro sviluppatore mi ha guardato malissimo però purtroppo è così noi abbiamo pochi sviluppatori informatici molti dei quali non operano con le tecnologie più all'avanguardia diciamo che sono poi quelle che sono più apprezzate ritorniamo lato investitori e non solo che danno anche più vantaggi quindi è difficile trovare gli sviluppatori informatici se potete iniziate subito con uno sviluppatore nella cap table quindi come socio fondatore uno sviluppatore informatico che sia il vostro CTO è un aspetto essenziale per non trovarsi in difficoltà grandi nel corso dello sviluppo della società perfetto molto chiaro e soprattutto molto interessante grazie mille grazie a te e speriamo di rivederci presto in giro per l'Italia ma sicuramente per il mondo sicuramente ciao a tutti grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti